Ciao ragazzi, di questo video di Roblox, come se io sono mezzo giunto, e oggi partiamo con il nostro bellissimo video. Quindi ragazzi, godetevi il video, a partire di subito. Benvenuti, questo video di Roblox, oggi scappiamo da Coniglio Pasquale. Raga, lo so perché oggi è il 6 di... E' il giorno di way! Sì, oggi partiamo, dopo questo video, annunceremo il vincitore di the way. Mi raccomando ragazzi, abbiamo cambiato idea e adesso è un Red Panda. Ok, dobbiamo scappare. Perché in realtà è un Coniglio Nombra, siccome l'ho scambiato, perché ora ho un Polar Bira Ride, e ho anche una Renda Marrone Rider Fly, non volevo dare quei pet, perché io ci tengo molto, quei pet. Quindi, in una prossima volta vi darò, non preoccupatevi, però ragazzi, il premio sarà un bellissimo Red Panda. Bene, ok, dobbiamo, oggi devi scappare da questa casa, anche se oggi è il 6 di Raga Capare di fare il posto. Aspetta, speriamo bene. Lasciatevi un like per supportarmi. Dica. Non posso venire con te? Certo che puoi venire. Sono alla porta. Uh, 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 quante carote, saltiamo le carote. Le carotine, le carotine. Raga, mi avete consigliato di fare il video senza fotocamera, infatti per quello è vero, però tutti lo fanno così. Però, come volete, voi vediamo anche i app, come le salve. Perché è questo schifo cappello, scusami? Perché il Blox Award. Raga, sono più sexy. Se il Blox Award, non c'è un giro. Uh, carmelle. Raga, sono più sexy con le scappare di Adidas. Eeeh? Giallo. Ma porca miseria, quello giallo non si può più. Era giusto. E' verde? Quello verde, yes. Qual è che era di già qua? Allora, blu? Non è la moncione, Rittor. Non è la moncione. Verde. Allora, blu, verde, rosso, quindi. Cos'è sta roba? Uh, il coso di banana. Uovo di lava? Oh my God, no. Porca miseria. Dove evitare dell'uovo di... Mi aspetti. Sì, ti aspetto, stai proprio qui. Tranquilla. Che saluti con il lo brutto? Con il lo brutto? Dai, povero! Eccomi. Porca miseria. Ok. Oh my God. O va di là. Porca miseria. Eri. Questo è il tuo. È impossibile. Robi, robi. Robi, robi. Robi, robi. Ok. Questo è difficile. Cos'è sta roba? No. È impossibile. Sto uovo di nero. No, addirittura no. Ok, ho capito cosa fare. Come si fa. Allora, salta. Carrote bollenti. Va da quando le carote possono essere bollenti? Scusami, gioco. Ma mi sta prendendo in giro. Scusami, eh. Lo so che i cogni amano le carote, ma le carote bollite non le ho mai viste io. Ah no, però potrebbero esistere le carote bollite. Avete presente quelle carote tutte a forma di cerchio? Tutte bollite nell'olio? Nell'olio? Di sottare sulle cose. Quella cosa, ci vuol dire tu? Quella è il ragallo, ma lo assaggiare io sono bollite. Sotto sulla carote. Sì. Io ragamano le carote. Broken peepers. Broken peepers. Scusami. Ma mi stai prendendo in giro gioco? Scusami, eh. Allora, evitiamo tutte queste cose che fanno schifo. Sì, di più in svitazione. Ho appena scoperto che l'acqua non si deve toccare. Molto. Abbiamo prestigiatto il vetro. Yes. Dove stai? No, è una montella del vetro. Ma una porta piccolissima. Come faccio ad entrarci? Scusami. Uuuuh. Ma dai, me lo avevo... Stavo per morire. Ho fatto la stessa... Ma io stavo mangiato lo stesso. Perché sono stato mangiato lo stesso? No, sei stato qua. Perché non di me? Perché sono... Ho fatto la stessa fine come te. No! Ma io sono stato mangiato. Allora, guarda. No! Che carino! Sono morto lo stesso. Ma che schifo! Che... Aspetta me! Io adesso ti spacco il sedere. Aspetta, che schifo! Ma che schifo? Non mi ha dato la morte, per fortuna. Ma che schifo essere mangiato da un coniglio? C'è poca... Vans. 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 Cosa sono sti vans? Scusami, gioco. Non mi sei prendendo in giro. Cosa sono sti vans? Cioè... Boh, io non capisco. Non lo schifo. Eh, lo so che sono schifo. Ma non capisco niente una cosa. Cosa sono? Vans. Vans. Ah! È vero! Ti abbraccio le vene. Ragazzi, saranno le vene? Boh. Cos'è sto schifo? Oh! Mi ha mangiato la morte. Wow. Lo stomaco del coniglio. Ma questo verde dove... Ovviamente, le carote. E le carote di Pasqua. Ma da quando i conigli mandano la cioccolata? Eh, gioco, mi stai trollando? Scusami, eh. Ma... Vabbè, lasciamo perdere. Che schifo. Che schifo. Vabbè, ripa. Oh! Fui! Il gioco mi sta prendendo in giro. Guarda, che schifo. Io non ci sto più qua dentro. C'è una pussa che... Ma che schifo, no. Che schifo! Ma da quando devo entrare? Scusami. Ma che ca... Ma che devo fare? Uova di Pasqua. Ragazzi, vi siete drogati con la cioccolata questi giorni? Io tanto, eh. Quali sono le dieci uova e piattere nel... Ma che... Questo è tipo di un minigioco. Dobbiamo trovare dieci uova e metterle nel cestino. Ecco, l'ho trovata una. Bene. Sono troppe dieci uova, scusatemi, eh. Ma dobbiamo guardare tutte le uova e metterle nel cestino. Uno, visto una là, dite l'altro. Ma prima? Sì. Anche una uova. Nella mia mano butta, butta, butta. Quante uova hai trovato te? Io due. Va, vede. Guarda. Va, vede il tuo schermo. Spera che sto prendendo la terza. La seconda. Ma come vado a guarda? Ah, non hai tre? Ehm... No, raga, una volta in avanti. Ti vado qua, ma... Fai fatica così può accardiseio. Ma che schifo. Sopra la macchina. Ma siete proprio stupidi? No. Sopra la macchina. Brunze. Uno qua dentro, raccaccia. Uno qua in quella casa, io dopo ci vado. Tututututututututututu. Portalo di Pasqua. Sono un conietto pasquale. Raga, sono un umano pasquale. Non so se esiste, ma farò stesso. No. E lui con il dietro... Ma sopra una macchina? Ma stai scherzando? Hai nascosto il lungo di Pasqua sopra una macchina? Ma che razza di nascondiglio è? Che razza di nascondiglio è? Scusami, eh. Boh. Ci sto... Ci sono dentro un albero? Ma guarda? No, io l'ho vista. C'è uno qua nella casa. Casina, che carino. Io te lo metto prima di te. No, è fissuto. Raga, me ne mancano quattro. Oh, l'ho vista uno qua. Ma questa cosa corre, boh? Ah no, forse è che lei corre. Vede le uova di Pasqua. Io se dall'alto della casa ne vedo un altro. Ta-ta-ta-ta! L'ho vista uno sul tetto. Non ci credo. L'ho vista un altro là! Otto uova ho visti. Incredibile. L'ultimo sarà difficile da trovare, credo, eh. Sette su dieci. Dai, sette su dieci. 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 Otto su dieci. Qui in questa casa giara non c'è manco un cavolo? Ma stai scherzando, vero? No. Ma qua ce ne sono due! Ma ci godo? Ma non posso prendere le uova? Ma la casa giara ci sono delle uova. Sì, ci sono. Ce ne sono due. Le ho preso... No, Jacopo! Praticamente, quel uovo lì è un beige. Un uovo? È un beige. È un uovo finto. Ti sto trollando. Ragazzi, questo uovo... È trovata una cornetta! Ciao, cosa... Ciao. No, la salutiamo quella del team cornetta. Ciao, cosa vuoi? Mi sembra. Cornetta! Salutiamola! Ma non c'è Jacopo. Vabbè, salutiamo cosa vuoi... Allora basta, c'è la sorella di tempo. Che fa parte del team cornetti! Yeee! Team cornetti! Si potrebbe essere parte di team cornetti? Basta che scrivete qua sotto nei commenti hasta team cornetti! Uuuu! Aspettate, sono in tanti di tempo! Raga, sono in tanti qua. Sono tipo un otto, un nove, dieci, boh. Sono in tanti. Comunque tra poco creiamo un canale YouTube che si chiama team cornetti. Mi raccomando, andate ad iscrivervi. Però non lo creiamo oggi, lo creiamo un altro giorno. Un uovo sopra il tetto. Wow! Io le ho trovate tutte, tutte le ho trovate! Ah, wow! Bene, dopo questa qui me ne manca una. Ah, ecco, quella lì dovrebbe essere un uomo. Dopo vado a prendere. Prendo questa uova e basta. Camminiamo, camminiamo, camminiamo. Vai con quelle scarpe, cammina, cammina con queste scarpe. Da, io cammino con brutte scarpe. Boh, io non so. Vabbè. Rip scarpe. Io ho finito. Dopo questo uomo che ho, ho finito. Dopo quel uomo lì. Ma cos'è sto schifo di... Ma sono tutti uguali l'uovo? L'ho scoperto adesso. Wow. Sono grigio. Sono grigio. Che d'ho fatto? Sono grigio. Che d'ho fatto? Me ne vado! Wow. Ho finito. No. No, vabbè. Ciao. 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 È difficilissimo, è invece fuori di qui. Cioè, è difficile. Porca miseria. Corri, corre, 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 corre. Hai finito? Devo entrare dentro il prato, sono entrato. Ma vai. Papara, papara, papara. Ma che cava. Finito! Qua. Dove sei arrivato? Deve andare in casa viola, tu sei coniglietto pasquale. E devi andare in casa viola, devi entrare dentro la porta. Sono in alto. Bene. Wow. È picchissimo. Eh, che devo fare? Devo festeggiare Pasqua? Abbiamo finito! Sì! Abbiamo vinto. Oh! Questo saluto è tantissimo. Abbiamo vinto. Raga, abbiamo, siamo scappati. Abbiamo concluso la Pasqua di questo, di suo roba. Si, è stata bellissima Pasqua. Sì, siamo veramente contenti. Eh, io ragazzi, vi... Ragazzi, vi diamo, ci conferisco di più e... Ciao! 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 Grazie.